Ben trovati con l'oroscopo di Barba Nera all'almanacco italiano dal 1762, martedì 31 luglio. A rete, a causa della Luna e di Marti ostili bisogna prendervi con le molle, a fare viaggi incontrano ritardi inattesi. Fate progetti a breve gittata, l'intesa di coppia mostra i segni del tempo ed è per ravvivarla, sicuramente non vi mancano. Toro, complice, la Luna in Capricorno è la giornata ideale per rivendicare diritti professionali e chiedere un aumento. L'importante sarà usare i toni giusti. Per sbloccare una situazione stagnante fidatevi di una persona seria, esperta e coscienziosa. Gemelli, Venere e Intrigono a Saturno conferma la profondità dei vostri sentimenti e vi fa capire che siete pronti a fare il grande passo. Oggi si può ufficializzare una storia, iniziare una convivenza, mettere in cantiere progetti di coppia importanti. Cancro, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte e lasciatevi aiutare da un amico. Nel vostro modo di comunicare, siate più attenti all'ascolto del vostro interlocutore e ne sarete gratificati. Leone, l'impegno che mettete nel lavoro è encomiabile, ma cercate di essere elastici e non pretendete che tutti siano al vostro comando. Le emozioni vanno tenute a bada con la prudenza per evitare situazioni troppo coinvolgenti. Vergine, con entusiasmo e grinta, affrontate i doveri e i progetti e, una volta tanto, siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Lasciate che anche le persone a voi care facciano le loro esperienze con l'autonomia che rivendicate per voi stessi. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisioni e senza più tentennamenti. Per trovare a pagamento e un maggiore equilibrio fate delle scelte precise. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, sostenute dalla luna in capricorno che vi rende brillanti e motivati, le vostre iniziative hanno innumerivoli chance per riuscire con successo. Giornata ricca di novità, serena per le amicizie, determinante per gli studi e costruttiva per il lavoro. Sagittario, anche se per voi il denaro ha un valore relativo, vi farà piacere apprendere che dal fronte economico sono in arrivo notizie molto promettenti. Un oculato investimento sta dando i suoi frutti, non vi resta che raccoglierli e metterli nel salvadanaio. Capricorno, colpa delle quadrature puntate sulla luna da Marte e Saturno, se oggi vi sentite stanchi, demotivati, frenati sulle iniziative professionali. Non scatenate difficoltà pigliandovi a inutili cavilli, l'attesa dipanerà una serie di dubbi. Acquario, belli trigoni di Venere e Saturno, sia per dare maggiore profondità alla vostra storia d'amore, sia per fare scelte lungimiranti. La vostra creatività trova applicazioni concrete, ottimo momento per chi opera nel settore artistico. E per finire, il pesci è la giornata ideale per lavorare con profitto, per passeggiare insieme alla persona che amate, fuori dal chiasso e dai luoghi affollati. La luna in Capricorno vi strizza l'occhiolino ed il buon umore diventa il vostro prezioso alleato. Grazie a tutti.